Abbiamo decisamente pagina perché oggi è venerdì e c'è la nostra rubrica libri curata da Massimo Cerri. Nel nuovo libro di Francoforte, Cesare il Conquistatore, torna alla saga del grande condottiero romano. Questa volta Giulio Cesare, che non è morto durante la congiura delle ridi di marzo, lascia Roma e va alla ricerca dell'immortalità. Dalla mitica isola di Tule, nelle terre del nord, al regno delle tenebre, per tuffarsi nelle acque dell'Ostige, che altro non è se non il nome con cui un tempo si indicava il Nilo. Un'avventura con a fianco la regina Cleopatra. Grazie a tutti voi per l'attenzione e un'ottima giornata con i programmi della rete. Arrivederci.